raga sono chiamatemi guerriera questo è il mio canale mia mamma ha detto che il cellulare si rifiuta persino a registrare bene perché non riesco a mettere a fuoco sto cavolo di scontro 2240 2240 aspetta 2240 a fuoco metti fuoco metti a fuoco vabbè 2240 e non ho preso un cazzo allora mamma di quanto costa la carta igienica c'è anche la carta igienica 5 euro 5 franchi ha già 5 franzi c'è valfranco non è di moda l'euro qui è il valfranco e e vabbè ci abbiamo il popò delicato anche di carta igienica quante cose ce n'è 1 2 3 4 5 10 10 rotoli me allora questo è l'ammorbidente questo è il detersivo per lavare i panni questo questo è universale ci ha disegnato i pavimenti e i bicchieri c'è scritto universale prodotto universale per lavare boh secondo te va bene per lavare per terra se è universale ti puoi fare anche il pidè no è universale no il bagno schiuma lasciatela perdere i dolci li hanno dato alla testa il bagno schiuma poi c'ho i piselli ma quanti piselli c'ho ancora i piselli ok poi c'ho il tonno pasta con tonno e piselli poi c'ho questi funghi qua che li facciamo stasera ok poi c'ho un wustel serve a qualcuno è buono si si l'ho già mangiato buonissimo poi c'ho il pesto rosso pesto rosso poi c'ho il pesto verde non fate pinta di non averlo visto ok so che è più buono farlo fresco con la cipolla il sedano le carote comunque poi ci stanno le uova poi c'è la cartigenica che lì per terra fai vedere la cartigenica ma arrivo 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 solo 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 per pulirti il mouse questa non è universale ok va bene raga ci si vede nel prossimo video io stavo creando un video tag fatto con le domande fatto io le domande e poi dopo chi vuole lo può fare magari qua sotto nei commenti no se mi dite mi scrivete voglio essere taggato voglio essere taggata io 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 vi taggo direttamente col prossimo video così fate video tag sono delle domandine su tre cose tipo che ti piacciono tre cose che non ti piacciono poi vabbè non spoiler troppo perché sennò poi poi dopo vi prendete gli appunti ciao raga da Gucca matemi guardare il tutto ci si vede nei prossimi video vi lascio con i piselli ciao ciao a tutti ciao a tutti